Proseguono le operazioni di controllo da parte dei carabinieri per fronteggiare il mercato illegale di sostanze stupefacenti. Durante una delle ultime militari del nucleo operativo hanno ammanettato un 25enne operaio incensurato di Andria. Da giorni i carabinieri tenevano sotto controllo il garage del giovane, sospettando un'illecita attività a dispaccio. Gli investigatori nei giorni precedenti avevano notato uno strano viavai di giovanissimi proprio in quel luogo, situato in una via centralissima della città, e questo ha destato non pochi sospetti. Quando sono stati effettuati i controlli, molti dei suddetti giovani venivano trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. Per questo, con l'obiettivo di far chiarezza sulla vicenda, è stato predisposto un servizio in abiti civili, durante il quale i militari si appostavano nelle vicinanze del garage sospetto, iniziando a monitorare la situazione. Dopo poco tempo hanno notato il giovane spostarsi dall'abitazione verso il locale, dove in un'intercapedine ricavata tra la propria autovettura ed il muro di cinta, protetta da una porta in ferro, controllava il contenuto, occultando nello stesso tempo alcune buste in plastica. A quel punto i carabinieri, senza esitazioni, sono usciti allo scoperto e hanno bloccato lo spacciatore, cogliendolo in fragrante ed effettuando una successiva perquisizione all'interno dei locali. Sono stati così rinvenuti ben 750 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed un bilancino di precisione, insieme ad una somma contante di 735 euro, trovata tramite perquisizione personale, molto probabilmente provento dell'attività illecita. Il giovane è stato quindi arrestato per spaccio e detenzione di droga, finendo agli arresti domiciliari a disposizione della procura di Trani. Trani